Sul gol dell'Atalanta, cosa è successo? Perché abbiamo visto che l'attaccante dell'Atalanta è saltato alto e la palla ci sembrava che tu la potresti prendere. Sicuro dopo ogni gol che lo prendo mi faccio un po' di mia colpa perché su ogni gol posso fargli più, posso far meglio. Pregato che l'abbiamo preso, ma poi ci siamo stati bravi a fare il 3-1 e chiudere la partita. Ho visto che ti sei arrabbiato molto? Ci siamo arrabbiati tutti, spesso quando si prende un gol. Ma l'hai battezzata fuori con la palla? No, no. Una Roma in grande crescita. Abbiamo fatto due vittorie importanti a Parma in trasferta e adesso in fuori casa. Ci serve, ci vuole la continuità. Ci stiamo lavorando forti e speriamo di andare avanti su questa strada. La prossima è il derby? Fino al derby ci sono due settimane preparate. C'è qualche raccomandazione particolare che vi fa a Poi Portieri, Luiz Enrique? Non solo, non solo. Grazie.